buongiorno in un trafiletto sul Corriere della Sera il compositore Nicola Campogrande ha definito i repertori in uso nelle chiese italiane per la liturgia i repertori musicali di una modestia straordinaria io non posso essere in disaccordo con quest'analisi anche se come dice lui bisogna fare dei distinguo per esempio ci sono alcune chiese in cui ancora si capisce che la musica e la liturgia sono così legate che quando la musica è di livello così modesto ne risente anche la liturgia io penso per esempio ad alcune chiese o basiliche qua in Italia come a Bergamo in altri luoghi mi sembra Trieste anche insomma dove veramente ci si tiene che la liturgia sia accompagnata da musica di un livello molto elevato ma perché qui da noi la situazione è così triste i motivi sono vari mi viene chiesto molte volte perché è così qui da noi e non c'è una risposta univoca la risposta è una risposta un pochino complessa o forse è semplice ma è difficile articolarla senza infastidire qualcuno che potrebbe risentirsi di di un'analisi forse troppo puntuale e io vorrei dire che l'Italia è anche in una posizione di privilegio in quanto noi abbiamo veramente musicisti preparati in altri paesi il problema c'è che non hanno musicisti preparati a scrivere musica per la liturgia è perché per scrivere musica per la liturgia non è necessario solo saper scrivere dei buoni contrapunti oppure sapere armonizzare bene le melodie certo questo è importante ma non è tutto perché il musicista liturgico il compositore per la liturgia ha una competenza tutta sua deve conoscere la liturgia deve conoscere le forme liturgiche deve conoscere l'uso dei brani che andano a scrivere nella liturgia quindi calibrare i tempi calibrare le dinamiche il mood del pezzo un pezzo per la comunione non è un pezzo per l'introido un pezzo all'offertorio non è l'agnello di dio insomma ci sono proprio delle competenze che vengono soltanto dal respirare la liturgia e questo non soltanto da una conoscenza teorica che certamente è necessaria ma da una conoscenza empirica cioè bisogna veramente vivere nella liturgia per poter aiutare gli altri a vivere la liturgia ecco se così si può dire quindi perché allora qui da noi visto che abbiamo dei musicisti così bravi e preparati ma la situazione è sempre così straordinariamente modesta come dicevamo prima citando dal Corriere della Sera beh appunto il discorso qui è che ci sono dei problemi legati a certe mentalità a certo clericalismo per cui pur avendo musicisti anche giovani laici perfettamente in grado di poter sollevare le sorti della musica liturgica però spesso vengono tenuti un po' da parte non vengono fatti suonare vengono preferiti i cosiddetti gruppi giovani questo retaggio degli anni 70 60 70 e quindi la situazione continua ancora a precipitare io faccio spesso riferimento ai pareri che mi vengono dati da visitatori sacerdoti o vescovi che vengono da mondo anglosassone che mi fanno notare come la musica nel nostro paese per la liturgia sia veramente deplorevole io non posso dire che non è vero ma non posso fare a meno anche di fargli notare che molte delle cattive influenze che noi abbiamo importato le abbiamo importate proprio da loro da questo da queste musiche che provengono da certo protestantesimo poi entrate nel cattolicesimo americano o inglese per cui poi noi ne abbiamo subito l'influenza nefasta quindi certo loro hanno un po' ragione però dovrebbero pure fare i conti in casa propria che dire come poter risollevare la situazione ci vuole certamente un cambio di mentalità che allo stato attuale delle cose mi sembra estremamente difficile a vista umana però noi ovviamente facciamo affidamento alla provvidenza facciamo affidamento a dio e speriamo che ci sarà un tempo in cui ai veramente bravi musicisti competenti che esistono che hanno studiato che si sono preparati per poter svolgere questo ruolo verrà data la possibilità in modo che possiamo finalmente partecipare a liturgie belle con una musica bella una musica sacra liturgica una musica che veramente sposa il rito perfettamente e che ci aiuti ad elevarci ad elevare le nostre anime alla bellezza delle cose celesti e alla bellezza delle cose divine